a parigi toyota presenta la nuova generazione della corolla sport touring in realtà corolla ovviamente un nome che ritorna in europa dopo tanti anni di assenza in passato si chiamava auris ma in realtà è un modello che ha avuto poca fortuna e adesso si passa a corolla di nuovo e lo vedete questa è la generazione la nuovissima generazione che riporta delle grandissime novità soprattutto dal punto di vista del powertrain o meglio così si definisce tutta la soluzione che muove l'auto chiaramente abbiamo una motorizzazione ibride in realtà ce ne sono addirittura due un 1.800 e un 2.000 ibrido uno da 122 e uno da ben 180 cavalli quindi doppia possibilità di scelta per quel che riguarda le motorizzazioni la corolla normale che vedremo tra pochissimo ovviamente aumenta anche lo spazio di carico grazie alla presenza di questo enorme volume al posteriore ci sono infatti quasi 600 litri di capacità minima è una possibilità tra l'altro di portare sul ripiano inferiore o meglio sul piano inferiore il piano di carico quindi in questo modo si ha la possibilità di avere tutto lo spazio sotto e anche di poterlo sfruttare in maniera veramente ottima questo esemplare non è dotato del tetto panoramico e lo spazio interno è molto buono soprattutto per le gambe anche per la testa non è malissimo mi aspettavo qualche cosina in più forse ma in realtà poi alla fine si sta molto bene chiaramente abbiamo anche il bracciolo centrale le bocchette da reazione l'unica cosa non vedo prese di ricarica usb questo potrebbe essere un problema nei lunghi viaggi vediamo se riusciamo anche a vedere davanti questa nuova sports tourer eccoci al volante della corolla station wagon questo è lo spazio disponibile questa è anche la configurazione scelta per la plancia abbiamo un rivestimento molto bello con materiali morbidi nella parte superiore plastica rigida nella parte bassa come del resto ormai è tradizione su tutte le auto di questa categoria non nei marchi premium e poi abbiamo un sistema di infotainment che visto così onestamente non mi fa impazzire per quel che riguarda la grafica ma mi riservo di provarlo un pochino più approfonditamente più avanti quando ci sarà data la possibilità nel nostro test drive poi ovviamente passiamo anche alla versione 5 porte della corolla che si trova qui in bella vista facciamo vedere anche il davanti di questa colorazione colorazione marrone con il logo azzurro questo vuol dire infatti che si tratta di una versione full hybrid del produttore giapponese toyota corolla quindi come vi dicevo ibrida in due versioni ibride quindi vi ripeto 1800 e 2000 ibrido questa è la versione 5 porte invece ve la faccio vedere in tutto il suo splendore al centro dello stand toyota ovviamente cambiano completamente le proporzioni una macchina che dal vivo fa veramente un'ottima scena molto sportiva come linee e poi in questa colorazione bicolore è veramente molto interessante guardate anche la parte anteriore con il profilo argentato davvero molto bella e ovviamente i fari che sono full led cosa cambia rispetto all'altra versione ovviamente la station wagon è più spaziosa è pensata più per le famiglie questo nonostante offra comunque le stesse caratteristiche di base quindi doppia propulsione ibrida 1800 e 2000 e anche tutte le varie le varie possibilità di assistenza alla guida questa chiaramente è pensata più per un pubblico magari anche più giovanino oppure per chi non ha tanto bisogno di spazio ed in effetti vedete lo spazio qui dietro non è moltissimo in realtà c'è poi la seconda generazione del toyota safety sense che permette all'auto di mantenere la corsia permetta l'auto di frenare in autonomia ma su tutte queste cose ovviamente faremo un video dedicato nel momento in cui ci sarà data la possibilità di testarla approfonditamente quindi vi invito a restare collegati su drive key anche per sapere tutte le novità del modello dedicate al nostro mercato noi ci vediamo alla prossima sempre qui su drive key mi raccomando iscrivetevi al nostro canale youtube grazie a tutti